Nuova ondata di contagi in Irpinia. Ieri sono stati esaminati circa 100 tamponi, di questi 21 sono risultati positivi al Covid-19. Spuntano nuovi casi nella città capoluogo, aumentano nell'Arianese e aumentano anche i casi di operatori sanitari contagiati. Ultima un'infermiera dell'ospedale Landolfi di Solofra, risultata positiva. Intanto l'ospedale Moscati ha stretto un accordo con le cliniche private per la gestione dei Covid. Abbiamo attivato il protocollo d'intesa tra Regione IOP, grazie al quale siamo in grado di trasferire pazienti Covid nelle case di cura del territorio irpino. Abbiamo poi avviato il protocollo per la sorveglianza del personale sanitario con test rapidi. Questo protocollo avrà inizio operativamente domani venerdì. Questi test che sono stati consegnati sono 2000 e verranno impiegati per monitorare le condizioni immunologiche del personale in servizio. Il direttore sanitario invece ha fatto il quadro della situazione attuale. I pazienti sono ricoverati per Covid sono 79 e di questi dobbiamo aggiungere 6 pazienti trasferiti alla clinica Santa Rita. I deceduti sono 21 e in attesa dell'esito del tampone 18. Da segnalare anche che un terzo paziente è stato stubbato ieri praticamente presso la rianimazione del Moscati e è stato ulteriormente rimodulato il percorso presso il proprio soccorso alla luce anche del numero di pazienti che afferiscono praticamente al Moscati e quindi alla curva epidemica. Grazie. 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 Grazie.